Durante le nostre consulenze in salone ci sentiamo spesso dire sai li lavo spesso perché mi si sporcano subito però li sento secchi, aridi e delle volte ho anche della forfora sui vestiti sai succede anche a mio marito sai non metto il bassamo sulle lunghezze perché così rimangono più puliti ne perdo anche un pochino ma tanto ne ho tanti sapete quante volte ci sentiamo dare queste risposte quando poi in fase di consulenza naturalmente poi le proponiamo un check up a tricocosmetico si apre un mondo e ci sentiamo dire ma nessuno ci ha mai spiegato queste cose noi del salone Zanchini Annalisa siamo in grado di offrirvi un servizio unico che ti aiuterà a scoprire il perché hai queste anomalie e anche come risolverle hai mai fatto un check up a tricocosmetico? sai cos'è? è un consulto che si fa con l'ausilio della microcamera dove si può vedere lo stato di salute del cuoio capelluto e delle tue lunghezze si comincia con un'anamnesi poi si prosegue con un esame obiettivo e se c'è davvero qualche anomalia cutanea si prosegue poi con una diagnosi e la definizione poi di protocolli personalizzati se non l'hai mai fatto o anche pensi di non averne bisogno almeno una volta all'anno farlo te lo consiglio così scoprirai qual è lo stato di salute della tua chioma e in ottica anche di prevenzione potrai anche scegliere quale routine quotidiana puoi fare o anche settimanale ma soprattutto non aspettare di avere un'anomalia come tipica come di questo periodo una banale caduta di capelli ecco perché è importante la bellezza dei tuoi capelli passa attraverso il cuoio capelluto un cuoio capelluto sano darà una chioma stupenda ricordatelo ecco 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 Grazie a tutti.